realizzare la nostra panna montata abbiamo bisogno di 500 ml di panna liquida fresca e ben fredda da frigo che verseremo nel nostro boccale possibilmente anche il boccale dovrebbe essere abbastanza freddo quindi non usatelo subito dopo averlo lavato magari con acqua calda ma deve essere ben ben fresco dopodiché abbiamo bisogno solo dell'accessorio mixer quindi la farfalla da inserire all'interno del boccale chiudiamo il nostro tappo ed impostiamo 5 minuti a velocità 4 e diamo via togliamo anche il tappo del misurino in modo che la panna possa montare più agevolmente vi consiglio sempre di tenere d'occhio il buco del tappo in modo da vedere se la panna diciamo monta troppo e si trasforma in buro quindi monitoratela costantemente la nostra panna è pronta vi faccio vedere il risultato ecco qui guardate ed è pronta per l'utilizzo ecco la nostra panna ben montata come vedete molto ferma spero che la ricetta vi sia piaciuta vi invito a mettere like a questo video e continuare a seguirmi su questo canale iscrivendovi a in cucina con messier per restare aggiornati su tutti i miei video vi consiglio anche di iscrivervi al nostro gruppo facebook messier chiusi in connect plus italia per scambiare opinioni e idee suggerimenti e ricette nuove con gli altri utenti e se volete seguirmi anche sul sito www.messiericette.it e buona panna montata per tutti grazie a tutti Grazie a tutti.